Boccata d'ossigeno per le donne disoccupate calabresi. L'assessore al lavoro della Regione Calabria Nazareno Salerno ha illustrato ieri mattina in conferenza stampa a Catanzaro presso Palazzo Alemanni l'avviso pubblico relativo al bando Welfare to Work finalizzato all'occupazione di giovani donne svantaggiate. Primo requisito riguarda l'età anagrafica. Le donne infatti non devono superare i 35 anni. L'iniziativa è realizzata dalla Regione, di concerto con le 5 province con l'assistenza tecnica di Italia Lavoro. Le risorse disponibili infatti ammontano complessivamente a 6 milioni di euro, metà dei quali provengono dal Ministero del Lavoro. Beneficiari degli incentivi sono le imprese che assumono donne e che hanno le loro sedi all'interno del territorio regionale. L'avviso è aperto a tutti i settori economici e concede aiuti all'assunzione di lavoratrici svantaggiate sotto forma di integrazione salariale. L'avviso è disponibile sul sito della Regione, attualmente in preinformazione. La domanda deve essere trasmessa tramite raccomandata con ricevuta di ritorno dal 25 settembre al 15 ottobre prossimi. Abbiamo messo la donna al centro di questo bando e della programmazione che noi stiamo portando avanti come assessorato, quindi come Regione Calabria. Questo è un bando importantissimo perché prevede il 50% di incentivo del costo salariale per le assunzioni delle donne. Ovviamente parliamo di donne al di sotto dei 35 anni e che devono avere determinati requisiti. Questo opererà e quindi interesserà un'ampia fascia di donne e noi ci auguriamo che ci siano tante richieste perché oggi partiamo con 6 milioni di euro ma noi siamo disponibili a mettere ulteriori risorse perché riteniamo questo uno strumento molto importante, efficace che va a creare posti di lavoro e che quindi produrrà economia.